Sarebbero stati alcuni dissidi economici tra la vittima e i figli della donna a cui era legato sentimentalmente a portare il 9 gennaio del 2014 all'omicidio incontrato a Salice a Galatro di Michele Franzè e quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Gioia Tauro coordinate dalla procura di Palmi. I militari diretti dal tenente Gabriele Lombardo hanno arrestato ieri mattina a Monserto di Dinema in provincia di Vibo Valencia i fratelli Daniele 27 anni e Giuseppe Matalone 30 anni con l'accusa di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione di detenzione porto illegale di arma da fuoco in concorso. I Matalone sono i figli di Filomena Sir Giovanni 51enne che aveva una relazione con Franzè. Dalle indagini effettuate anche attraverso molte intercettazioni telefoniche ambientali e numerosi interrogatori hanno permesso agli inquirenti di accertare quale movente del delitto l'esistenza nel periodo antecedente all'omicidio di dissidi privati ed economici tra gli indagati e la vittima. In particolare è stato provato che Franzè avesse deciso di non dare più denaro al nucleo familiare di Filomena Sir Giovanni. Il lavoro dei carabinieri è riuscito a provare la presenza dei due indagati nel luogo dell'omicidio in un arco temporale compatibile con l'ora in cui il delitto è stato compiuto. Attraverso le dichiarazioni rese dai testimoni e l'analisi del contenuto delle intercettazioni è stato smascherato il piano elaborato dei fratelli Matalone per creare falsi alibi che potessero di volta in volta giustificare gli indizi di colpevolezza emersi nei loro confronti. I due indagati avevano tentato di giustificare le tracce di polvere da sparo rinvenute sui loro indumenti sostenendo di essere andati a caccio il giorno prima dell'omicidio ma gli investigatori hanno smontato questa ipotesi. In un secondo momento Daniele Matalone per giustificare una ferita sulla fronte, uno dei killer e secondo i carabinieri sarebbe stato colpito dai colpi diretti verso Franzè, ha dichiarato di essersi fatto male mentre stava lavorando ma anche in questa occasione le dichiarazioni si sarebbero rivelate false. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Vibbo in attesa degli interrogatori di garanzia.